... Riunita la Commissione Tecnica del CONI, domani l'annuncio sulla candidatura l'opzione di una Olimpia di allargata più città potrebbe mettere in difficoltà Torino. Riunita la Commissione Tecnica del CONI che domani svelerà la candidatura olimpica italiana l'opzione di una scelta allargata più città mette in difficoltà Torino. Francesca Cosentino. A poche ore dalla decisione del Consiglio nazionale del CONI convocato per mercoledì 1 agosto per decidere quale sarà la località italiana candidata alle Olimpiadi Invernali che si disputeranno nel 2026, il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha convocato nuovamente i rappresentanti dei tre comuni in Lizza, Milano, Torino e Cortina per il Veneto, per un'ultima valutazione dei dossier presentati dalle amministrazioni comunali per arrivare in accordo col governo a individuare quella che sarà la località che rappresenterà l'Italia. Si sa che il CONI è orientato a scegliere per il progetto meno costoso e che preveda sinergie col territorio e un rispetto dell'ambiente. Noi riteniamo, ribadisco, il nostro dossier è sostenibile a tutti i punti di vista e quindi abbiamo ribadito quella che crediamo essere un'opportunità per il territorio piemontese e quindi continuiamo, abbiamo spiegato anche la motivazione per cui riteniamo opportuno che la città di Torino sia città protagonista di queste Olimpiadi e non sta bella di altre città. Non è escluso che si sceglia una città capofila e si decida di includere una o anche tutte e due le località per puntare a una candidatura unica. Al momento non ci sono state fatte proposte che ci consentano di valutare candidature multiple. Per quel che mi riguarda, se ci saranno, le valuterò. Il mio ruolo è diverso da quello del sindaco, le valuterò. E una quarantina di attivisti della rete pro migranti Sheaesu ha broccato questa mattina il traffico a intermittenza fra le 9 e le 12 al confine del Monginevro, fra Italia e Francia. Sulla pagina Facebook del Movimento si parla del fermo di una giovane di Brianson che secondo la gendarmerie avrebbe aiutato dei minorenni a varcare il confine. Di qui la decisione di dare vita al presidio solidale, dicono gli attivisti, permette rimostra la contraddizione fra il traffico di turismo e merci e il blocco totale delle persone.